buongiorno e benvenuti sul nostro canale continuiamo oggi nella lettura del mio racconto il ritorno del lupo nella valle dei salici dell'episodio 14 un fossile misterioso buon ascolto dopo che il sindaco adottò colombo il gatto al parco dei salici i lupi chiamarono il sindaco per mostrargli una cosa giunto sul posto i lupi fecero vedere al sindaco un cranio di tirannosauro e non volendo che il parco diventasse un luogo archeologico implorarono il sindaco di coprirlo con un grande masso facendo in modo che nessuno avrebbe saputo che il parco era una zona di antichi fossili il sindaco per non deludere i suoi amici lupi nascose il reperto sotto una grande roccia e gli promise che avrebbe mantenuto il segreto per sempre tuttavia quella notte il sindaco fece uno strano sogno esso sognò un enorme tirannosauro che gli disse ragazzo tu hai una grande occasione di diventare ricco non rinunciare a tutto ciò potresti diventare persino famoso ricordalo bene approfittane ora che sei in tempo se non lo farai potresti pentirtene in futuro il sindaco con coraggio rispose non mi interessano le ricchezze preferisco avere tanti amici piuttosto di essere famoso allora il tirannosauro disse povero Giorgio sai non ti capiterà più questa grande fortuna però ripensandoci capisco che è giusto che tu protegga i tuoi amici sei davvero fortunato ad avere degli amici che ti vogliono bene e che si fidano di te il sindaco confuso dalle parole del tirannosauro voleva chiedergli perché parlasse in quel modo improvvisamente però Colombo il gatto svegliò il sindaco assicurandosi che stesse bene il sindaco ringraziando il gatto comprese che il grosso dinosauro non aveva intenzione di guidarlo sulla strada della ricchezza ma voleva solo accertarsi che Giorgio avesse preso la giusta decisione ossia rinunciare a diventare ricco per mantenere un compito più meritevole proteggere i suoi amici animali questo è il grande tirannosauro e Giorgio il sindaco bene vi ringrazio dell'ascolto lasciate un like se vi è piaciuto grazie alla prossima ciao da Simone ciao 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 ciao